No, mi ha detto che basta prima da Omi perché fa più views Oh no, mi ha detto c'è il vero podcast, loro fanno ancora più views, ho capito bene Come è? Vi ho toccato di un punto che mi fa un po' male Non te l'aspettavi il like da me, da un amico E invece ho fatto il pezzo di merda, eh? Ho fatto il pezzo di merda